Lo stesso, se sarà freddato. Ma che ne sai, mi fa tornare la mente certi ricordi. Eh no, è buona, eh, coprili. Lo sai che il paradiso e i ricordi si vedono tutti? Ma che sei stata pure con Mariuccio, mio compagno di pago? Un bacetto. Un bacetto. Se ti vedesse papà. Quando sorridi, 17 muscoli lavorano in perfetta sincronia per trasmettere il movimento delle labbra alle guance e agli occhi.